Buonasera e quindi ci risiamo. Lo spoglio elettorale si è concluso. Altri cinque anni per il presidente Recep Tayyip Erdogan che ha vinto il ballottaggio con il suo avversario a Kemalkele Cedarolo attestandosi intorno al 52 per cento dei voti contro il 48 del suo avversario. È stata una competizione molto combattuta, come sempre due Turchie e come sempre ormai da vent'anni una vince e l'altra perde, seppure di stretta misura. Quindi sappiamo cosa aspettarci perché Erdogan non cambia, è sempre lui e per quanto riguarda l'agenda estera possiamo dire che sulla Siria potranno esserci dei passi che anche lui ormai ritiene inevitabili verso Assad che è rimasto in sella e quindi si tratterà di raggiungere lentamente e con difficoltà un'intesa per quanto riguarda un parziale rientro dei rifugiati siriani nel loro paese. Erdogan non ha la fretta che aveva Kelic Cedarolo nel volerle rimandare indietro, ma naturalmente dovrà tenere conto anche lui delle difficoltà che così tanti milioni di rifugiati provocano all'interno della Turchia, anche se poi lui ha dato la cittadinanza a circa un milione di essi che naturalmente hanno votato tutti per lui come l'opposizione, come Kelic Cedarolo ha messo in risalto in queste due settimane di campagna elettorale che ha condotto, con toni più nazionalisti, con toni che hanno riguardato più che l'economia e il terremoto come nel primo turno invece la questione migratoria. La Turchia si riconferma un paese nazionalista, d'altra parte sono nazionalisti tutti. Per quanto riguarda la Russia e l'Ucraina non ci saranno cambiamenti sostanziali. La Turchia, Erdogan sostiene l'Ucraina, ma ha bisogno della Russia, ha bisogno delle sue forniture energetiche, ha bisogno del suo apporto tecnologico. Di recente è stata inaugurata la centrale nucleare russa. Quindi continueranno gli ambigui, ma tutto sommato necessariamente buoni rapporti con Putin. E questo naturalmente irriterà gli Stati Uniti, ma lo trovo inevitabile da parte di Erdogan. Con gli Stati Uniti probabilmente Erdogan cercherà di avere un linguaggio più costruttivo, meno rigido di quello tenuto finora anche in vista della campagna elettorale. Lui ha giocato sul fatto che i sentimenti anti-americani sono fortissimi nella popolazione turca, non solo sull'elettorato suo, ma anche in quello di Klicitarolo. Adesso che ha in mano il paese per altri cinque anni molto probabilmente delle aperture verso l'amministrazione americana le farà anche perché gli fa comodo ottenere un via libera sulla fornitura di aerei di ultima generazione, che il congresso e il presidente hanno finora bloccato. Continuerà un approccio di apertura verso i paesi del Golfo e verso l'Arabia Saudita, che era già iniziato negli ultimi mesi. Quello con Qatar resterà un rapporto ottimo. Ci sarà un tentativo più difficile questo di apertura verso l'Egitto. Proseguirà un rapporto costruttivo, ma anche questo complicato, difficile, con Israele. E poi la Turchia proseguirà la sua politica fortemente africana. Ricordiamo che Erdogan è stato il capo di stato non africano che ha visitato il maggior numero di paesi africani nell'ultimo anno. Continuerà questa politica africana. La penetrazione turca in Africa è molto importante nell'agenda di politica estera di Erdogan. Continuerà un rapporto difficile, ma intoccabile, con la NATO. Probabilmente Erdogan tra qualche tempo toglierà il veto all'ingresso della Svezia nella NATO in cambio naturalmente di qualche gesto che ci sarà da parte svedese, come è avvenuto da parte finlandese. Per quanto adesso resta l'Europa. L'Europa purtroppo c'è un problema insolubile che guasta all'origine i rapporti tra Turchia e Unione Europea. Questo problema non risolto e probabilmente, molto probabilmente, non risolvibile si chiama Cipro. Ed è un problema di cui non si vuole mai parlare in Europa. Ma questo è l'ostacolo primario e fondamentale nelle relazioni tra la Turchia e l'Unione Europea. Il problema di Cipro. Finché noi continuiamo a ignorare che a Cipro esiste un'amministrazione turco-cipriota, la quale controlla un terzo dell'isola, e un quarto della popolazione, che è turco-cipriota, finché noi continuiamo a ignorarla nella finzione che il governo greco-cipriota rappresenti l'intera comunità isolana, noi non potremo mai dialogare veramente con la Turchia in materia non solo di adesione all'Unione Europea, ma anche in materia di confidenza verso quel paese. Perché la Turchia, a proposito di Cipro, è molto chiara. Io ricordo ancora quando ero ambasciatore ad Ancala e iniziamo i negoziati di adesione della Turchia all'Unione Europea nel 2005 e c'era tutto quell'entusiasmo che c'era agli inizi del governo Erdogan da parte dell'Unione Europea, eccetera. Il presidente del Parlamento turco mi disse in maniera molto chiara Guardi, noi siamo felicissimi di effettuare questo processo di adesione all'Unione Europea, però si ricordi se mai un giorno ci facessero scegliere tra l'Unione Europea e Cipro, la Turchia sceglierà Cipro. Noi, l'opposizione e chiunque ci sia al governo nel nostro paese. Quel discorso è ancora valido, quindi dobbiamo prima o poi prenderne atto. Grazie, buonasera.